Siamo tornati su Friday Night Funkin Ma stavolta affronteremo L'ex della mia ragazza Che si chiama Tabby Weak Weak follia Se non è così dice Curse Beh non importa iniziamo La mia ragazza parla Ehi caro boyfriend Bip ovviamente Volevo dirti che ci hai invitato con me In un ristorante Sì vabbè Beh I miei amici di mio padre Mi hanno invitato Per qualche relazione Perché Come si dice Vabbè Siamo ristorante Ok È il suo ristorante Voleva portare boyfriend Con sé Con zio Bene Bene allora vado a chiamare il taxi Allora Loro Vanno a conoscere Lo zio di girlfriend Aspettami qui Ovviamente è timido Oh che dolce Tabby Non lo dico eh Quindi ci incontriamo Da un anno Da un tempo nascosto Aspetta Tu chi sei Vedo che inizia ad uscire Con un altro ragazzo Si tratti di un'altra vittima Non è vero Ascolta amico Questa è la mia battaglia Non la tua Fammi finire tutto questo Vattene Almeno hai capito Che mi sta Usa Non hai capito Che ti sta usando In che senso In che senso Mi sta utilizzando Non ho capito Ci vuole salvare Dalla ragazza Che voi Che ti sta usando E' la mia batte Che ti sta usando No ho capito Che ti sta usando No ho capito Non ho capito Che ti sta usando Un'altra vittima Che ti sta usando No ho capito Che ti sta usando io nemmeno una ne ho missata fortunatamente l'altro ho appena fatto miss ma non mi ma non mi ha fatto niente meno male ho fatto bene ad attivarlo la mia ragazza è preoccupata ah è vero va bene l'ho messato giù ma non perché l'ho fatto a cavolo perché ho mancato dei frecce come fai a capire che come fai a non capire che ti sta usando per il suo successo per i suoi scopi esattamente come lei ha fatto con me guarda come sono ridotto sono sono completamente un corpo invisibile ho perso tutto sei dicendo che se lei mi usa diventerò come tabby questa è la tua ultima possibilità per andartene io non mi fermerò finché non avrò messo le mie mai su quella maledetta vattene o affronta le conseguenze va bene allora non avrei mai avuto che finisse così ma dovrò uccidervi entrambi che ben che troppo forte sto beat se come faccio a fare quello oh mio dio ce l'ho fatta se io non posso farlo quello vabbè poi c'è però quando arrivo là non mi ho messata una una fa tutte giuste no ne ho messa le tre quattro no andiamo che l'ho che l'ho che lo posso sconfiggere che succede mo l'esplosione come abbiamo fatto a sopravviare l'esplosione non lo so nemmeno io ma perché lui non è frantumato e boyfriend e girlfriend sì eppure la cassa qui sopra è vissuta l'esplosione terrorizzata arrabbiato bebops pensate che non sia stupido sapevo sapevo che avresti portato qualcuno ma lui non mi hai fatto no lui ci vuole far ci vuole far fare cuore entrambi mi sa ok siamo pronti per l'ultima canzone ok siamo pronti andiamo oh no ok andiamo però l'altro sto perdendo ci fa perdere vita questo tipo aspetta ve lo faccio vedere ecco ci fa perdere vita invece la recupero ne ho missate due io ne ho missate tre perfetto sto perdendo vita è una cosa figa io ho impazzito raga è finito no madonna mi fanno male le braccia tutte quelle frecce che ho premuto vabbè ce l'ho fatta almeno 369.589 punti andiamo ben ragazzi questo video è tutto spero che vi sia piaciuto lasciate un commento che vi piace e se volete altre mod ditemi nei commenti e ci vediamo ciao 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 Grazie.